Il Natale è... Il Natale è una festa meravigliosa, che ogni paese festeggia con la sua tradizione e con una gioia contagiosa. Ma sappiamo quale veramente è lo spirito di questa festa? Non è di certo ricevere regali o fare angioletti di carta pesta. Lo spirito del Natale sta nell'essere buoni, fare delle buone azioni. Sta nell'essere sinceri, essere responsabili e degli amici veri. Non è una gara a chi riceve di più. Celebriamo la nascita di Gesù. Passiamo ora a costruire un presepe, che deve apparire perfetto, da mettere sotto l'albero o vicino al caminetto. Il tutto ha anche un significato, un evento che va festeggiato e ricordato. Gesù è il vero dono che riceviamo. Ma spesso noi non lo capiamo. In mezzo al buio e all'asinello noi lo collochiamo, quel piccolo bambinello che in chiesa lo diamo. Ed è grazie all'amore della sua mamma che ci ha portato un messaggio. La vita non sarà facile, ha tante sfumature, come i quadri del Caravaggio. Ma l'amore per il prossimo tutto può fare, incluso insegnarci a lottare. Il Natale è amicizia, è amore e serenità. È una festa che per sempre, impressa nella nostra mente, resterà. Il Natale è un'amore per la sua mamma che ci ha portato un'amore per la sua mamma.